Siamo qua con Argiris appena usciti dal centro sociale TNT di Iesi e ne approfittiamo per scambiare una velocissima intervista per Global Project. Ti faccio una domanda e ti chiedo semplicemente, se è sempre detto che sia semplice, di farci lo stato dell'arte della situazione greca. Siriza ha vinto le elezioni, l'Europa dell'austerity è messa in discussione per la prima volta da sinistra, si apre una grande prospettiva, una grande possibilità per tutta la sinistra europea per decostruire le regolamentazioni della Troica che hanno impoverito tutti noi e la Grecia fa da avanguardia in qualche maniera a questa grande possibilità. Che cosa si respira in Grecia? Si respira un'aria molto positiva dentro il paese, praticamente è cambiato l'umore della gente e cambieranno tantissime altre cose. Già dai primi giorni del governo di Siriza il 72% delle persone appoggia le elezioni del governo, appoggia la sua politica in Europa. Perfino il 43% dei quelli che avevano votato Nuova Democrazia ora appoggiano le politiche di Tsipras e di Siriza. Il più del 90% di quelli che hanno votato dal partito neonazista criminale di Alba Dorata appoggiano queste politiche e si vede che praticamente questa sinistra può cambiare la coscienza delle persone e dare una speranza. Non abbiamo cambiato solo gli equilibri in Grecia, abbiamo cominciato a cambiare anche gli equilibri in Europa. L'Europa di Maastricht, l'Europa dell'austerità, l'Europa della distruzione totale dello Stato sociale e di tutti noi penso che è finita. Loro devono capire, hanno capito già questo passo, sarà dura e siamo in un momento molto difficile, però penso che gli equilibri cambiano. Noi non siamo disposti ad arretrare sulle nostre posizioni, noi vogliamo trattare, però vogliamo trattare per salvare il nostro paese e salvare anche i paesi del sud d'Europa, perché la nostra politica non riguarda solo la Grecia. L'abbiamo detto dall'inizio che la crisi è europea e dobbiamo trovare soluzioni europee. Noi abbiamo detto che non vogliamo essere più indebitati, non vogliamo altri debiti, per questo rifiutiamo le politiche che offre Merkel e Säuble. Noi abbiamo detto che non vogliamo più deficit, non vogliamo più questi deficit di bilancio e vogliamo avere un surplus. Il surplus però non si farà chiudendo scuole e ospedali, mandando a tassare tutti quelli che non hanno pagato mai le tassi allo Stato, combattendo la evasione fiscale e mettendo tassi ai patrimoni e ai righi. Questa è la politica di Sìriza e sembra una politica rivoluzionaria in questa Europa che siamo ammituati gli ultimi anni. L'equilibrio cambiano, a ottobre si vota in Portogallo, a novembre si vota in Spagna e poi l'anno prossimo si vota anche in Irlanda. Sìriza pernò il la punta del iceberg. Ora dobbiamo cambiare l'Europa e dobbiamo riscrivere questi trattati. Abbiamo sabato la manifestazione Roma al sostegno del popolo greco e al governo greco, avremo le manifestazioni a Francoforte per il blocco occupai. Ricordo solo che queste cose tre anni fa sembravano una folia di pochi baci. Oggi queste manifestazioni, questa protesta è praticamente in ordine del giorno. La BCE deve cambiare funzione, deve diventare la banca centrale dei popoli europei. L'euro deve diventare la moneta dei popoli europei. E tutto quello che abbiamo vissuto le ultime decenni in Europa con il liberismo è già acqua passata. Abbiamo già cominciato a costruire un'altra Europa e la costruiamo con un grande consenso. È molto importante questa cosa che la sinistra può creare grandissime maggioranze, può governare da sola senza bisogno di anacquare le sue posizioni. E lo dico questo perché il governo di Siriza è un governo fortemente di sinistra. I greci dipendenti che collaborano con il governo di Siriza hanno detto che rispetteranno il programma di Siriza. E questo già si è visto. Una seconda e ultima domanda. Il rapporto tra Siriza e i movimenti politici in Grecia e i movimenti sociali, ma soprattutto in Europa, cioè di fronte a questa reazione che possiamo definire terroristica della BCE e della Troica rispetto alle legittime richieste del governo greco, quale ruolo possono avere i movimenti nel dare una mano al popolo greco e al governo di Siriza per poter resistere a questi attacchi che la Troica e la BCE stanno compiendo? I movimenti per noi sono le nostre antenne nella società. Siriza è un partito che è cresciuto grazie ai movimenti, grazie alla sua partecipazione nei movimenti, ma anche grazie al grande rispetto che abbiamo dimostrato verso tutti i movimenti. Abbiamo rispettato e rispetteremo sempre l'autonomia dei movimenti, perché è la cosa più importante che abbiamo per salvaguardare le loro rivendicazioni. Noi non possiamo pensare che Siriza o una sinistra in Europa può stare fuori da tutti questi movimenti. E ora abbiamo anche bisogno di tutti questi movimenti in Europa, perché non è solo movimenti di solterità per il nostro governo e il nostro popolo, sono anche movimenti che cercano di risolvere la loro questione nazionale, come si chiamo dire. Perché se non saranno cambiare anche dentro questi paesi europei dove questi movimenti si muovono, non abbiamo nessuna speranza. Allora tutti questi movimenti, prima di tutto, mettono un grande problema in Europa. Cambiare questi equilibri che abbiamo vissuto negli ultimi anni. Su questa cosa dobbiamo essere. Noi siamo molto orgogliosi che tantissime persone in Italia sono sese questi giorni nelle strade e nelle piazze. Siamo molto contenti che li abbiamo visti fuori dalla passata tedesca a protestare. Siamo molto contenti di vedere, di assediare le sedi del Banca d'Italia, perché è un problema vero quella cosa di come funziona la Banca Centrale Europea. E siamo molto contenti di vedere anche i sindacati italiani che sono sessi nelle strade e poi appoggeranno sabato la manifestazione a favore del popolo greco e del governo greco. E questa cosa però la dobbiamo allargare in tutta l'Europa, perché solo se saremo tutti insieme possiamo ribaltare queste politiche. Noi non possiamo lasciare nessuno solo alla crisi, non possiamo lasciare nessuno solo a casa sua a guardare che gli rubano la vita in televisione. Dobbiamo fare con le persone lote grandi nelle strade, nelle piazze, nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli ospedali. Dobbiamo salvare le tue altre e ricreare uno stato sociale in Europa. Dobbiamo ridistribuire la ricchezza in Europa. L'Europa è rica, non è l'Europa di questi milioni di disoccupati, di questi milioni di precari e tutto quello che ci hanno pensato come era una catastrofe naturale. Dobbiamo ricreare tutto questo da una società dal basso. Dobbiamo ricreare tutto questo da una società dal basso.